Frontiere proibite, benvenuti ad Oltre Frontiera, la rubrica che si occupa di rispondere alle vostre domande, alle vostre curiosità. Oltre Frontiera riparte, questo è il numero 28, io vi ringrazio per le tante mail, i messaggi, i suggerimenti pervenuti, continuate a farlo alla mail ufficiale del canale che è frontiereproibite.com oppure attraverso i commenti, quindi un invito ad iscrivervi al canale lasciando i vostri commenti, i vostri like se vi fa piacere. Partiamo subito oggi, tanti argomenti da trattare, partiamo con Simone da Foggia. Ciao Simone, benvenuto su Frontiere proibite. Simone ci scrive, mi piace molto l'ufologia, soprattutto quando parlate di argomenti insoliti, storie particolari e credo che il caso Ummo rientri proprio in queste due categorie. Sì Simone, grazie, in effetti il caso Ummo rientra proprio nei due scenari che hai descritto nel tuo messaggio. E visto che ci siamo, proviamo a raccontarne la storia, poi ognuno trarrà le proprie conclusioni. Storia per la quale mi sono ispirato tra l'altro ad un approfondimento molto interessante, approfondimento fatto da Antonio De Comite, personaggio che vi invito a seguire, cercatelo su Facebook perché ha prodotto davvero tanti studi in materia di UFO molto molto interessanti. La nostra storia inizia nel 1966, esattamente il 16 febbraio, quando nel numero 282 di una nota rivista edita a Barcellona, si parla di un presunto atterraggio UFO avvenuto nei pressi di Madrid. Contestualmente c'è anche una intervista ad un famoso contattato di quel periodo, lo spagnolo Fernando VI. In quell'occasione, Sesma, per la prima volta, rivela l'identità degli extraterrestri con i quali era in contatto, esseri provenienti da un pianeta chiamato Ummo. Ma si trattava di fatti reali oppure dell'inizio di una colossale burla? In effetti, caro Simone, la storia era già iniziata qualche mese prima. Parliamo infatti di gennaio, quando proprio in Spagna iniziarono ad arrivare delle lettere firmate da persone che affermavano di essere dei viaggiatori interplanetari provenienti da Ummo, un pianeta distante 14,4 anni luce dalla Terra. Il primo a ricevere questa misteriosa corrispondenza fu proprio Sesma, anche se colui che ricevette più lettere fu il giornalista e ufologo Paco Padron. Quindi il fenomeno si allargò a macchia d'olio. L'intero caso andò avanti fino agli anni Ottanta, ma la vera svolta avvenne nel 1996. Fu proprio in quell'anno infatti che la polizia spagnola ricevette una confessione scritta da parte di uno studente in psicologia, José Jordan Pena, il quale si attribuiva la responsabilità del caso Ummo e definiva l'intera questione come un esperimento sociologico. A questo punto la nostra storia potrebbe considerarsi conclusa, ma esistono in effetti dei punti ancora oscuri. Rileggendo infatti le lettere ci si accorse che non tutte potevano essere state scritte dallo studente e la cosa iniziò ad innescare dei dubbi e a dividere tra loro gli ufologi e i ricercatori. Proviamo ad entrare nel merito. Le lettere dei presunti abitanti del pianeta Ummo riportavano tutte un sigillo che rappresentava il pianeta in orbita intorno alla stella Wolf 424, stella della costellazione della Vergine. Gli ummiti asserivano di essere giunti sulla Terra durante il mese di marzo del 1950 nella regione francese delle Basse Alpi. E' proprio questo simbolo che appare abbastanza controverso. E' molto simile infatti a quello astrologico della costellazione dei pesci, ma ricorda anche la disposizione astronomica delle stelle della costellazione di Orione ed è praticamente identico a quello di una setta, quella dei Juris Davidici, un movimento religioso fondato dal predicatore David Lazzaretti negli anni 70 e attivo almeno fino al 2002. C'erano poi ancora molte altre domande senza risposta. Come facevano gli esseri provenienti da un altro pianeta a sopravvivere sulla Terra? Come facevano a passare del tutto inosservati? L'organizzatore di questo scenario doveva essere certo qualcuno che conosceva bene profondamente l'ufologia, ma anche l'esoterismo e il mondo dei simboli. Tra le altre cose doveva conoscere anche bene alcuni particolari scenari di tipo militare, nonché di intelligence. Si trattò quindi di uno scenario ben congegnato, ma a quale scopo? Oppure una realtà così fantastica da sfuggire alla nostra stessa logica? A volte accade che la verità sia molto più avanti rispetto a noi e questo fa in modo che risulti inaccettabile ai nostri occhi. Ognuno comunque, come dicevo all'inizio, tragga le proprie conclusioni e faccia i propri dovuti approfondimenti. Grazie Simone, grazie ad Antonio De Comite. Noi passiamo ad un altro argomento. Un argomento abbastanza particolare, abbastanza intrigante. E lo facciamo con il messaggio che ci è arrivato da Mirella 61. Nuovo messaggio, nuovo argomento, Mirella 61. Ci scrive, sono un'appassionata di leggende urbane e di antichi misteri. Vorrei farvi una domanda sul mistero dei teschi di cristallo. E' vero che ne esistono tanti, anche se di solito si parla soltanto del famoso teschio del destino? Ciao Mirella, benvenuta. E la risposta alla tua domanda è sì. Esistono molti teschi di cristallo. Proviamo un po' a tracciarne la storia. Il teschio al quale ti riferisci, quindi il teschio del destino, o The Doom School, è quello esposto al Mankind Museum of London ed è stato rinvenuto in Belize nel 1927 dai coniugi Mitchell Hedges. In realtà dei teschi di cristallo se ne parla già a partire dall'Ottocento e sicuramente nel 1897 il British Museum ne possedeva già uno. Ma da dove nasce tutta la storia che riguarda la famosa leggenda dei teschi di cristallo? Si tratta di un'antica leggenda dei nativi americani che ha avuto una grande visibilità nel 2008 grazie a Steven Spielberg e al suo film Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, film basato su una trama sviluppata dal produttore esecutivo che era George Lucas. La leggenda racconta dell'esistenza di 13 teschi di cristallo, tutti a grandezza naturale e con la mandibola articolata. I teschi sarebbero i depositari di antiche conoscenze che riguardano l'origine dell'umanità e la sua fine. Questo tema, che varia da tribù a tribù, trova anche altri riscontri nelle tradizioni dei Maya e degli Aztechi, mentre una sua variante parla addirittura di 52 teschi, conservati tutti in diverse parti del mondo, a partire dall'America per arrivare al Tibet e all'Australia. A questo punto vediamo quali sono questi altri teschi, oltre al già conosciuto teschio del destino. Il primo, ovviamente, è quello del British Museum, che venne analizzato dallo stesso museo nel 1936. Si presenta a grandezza naturale, pesa circa 5 chili, ed è il teschio protagonista di una storia che circolava molti anni fa, quella di una sua presunta emanazione negativa, che faceva addirittura impazzire chi lo fissasse a lungo negli occhi, nelle orbite, ovviamente. Secondo alcuni studiosi, il teschio è da attribuire agli Aztechi e non sarebbe più antico del XV secolo dopo Cristo. Altro teschio è quello conosciuto come Shan Na Ra. Anche questo, in cristallo, è appartenente a Joan Parks, residente a Houston, nel Texas. Di questo teschio, in pratica, non si sa quasi nulla, tranne il fatto che apparteneva ad un tibetano, Norbu Chen. Infine, tra i teschi posseduti da privati, sicuramente quello dell'archeologo Friedrich Mike Mitchell-Heads, che lo rinvenne in Belize nel 1927. Il teschio venne scolpito lungo l'asse principale del cristallo, quindi con una tecnica molto avanzata e con un taglio estremamente preciso che, secondo gli esperti, avrebbe richiesto addirittura oltre 300 anni di lavoro. Questo teschio, in particolare, è da sempre al centro di accesi dibattiti. Non esiste, infatti, alcuna traccia della scoperta nei resoconti della spedizione in Belize. Ed esiste, invece, la testimonianza di una ricercatrice, Jane McLaren Walsh, la quale asserisce di avere la prova che la figlia adottiva di Mitchell-Heads, ovvero Anna, acquistò un teschio di cristallo negli anni 40. È forse lo stesso teschio del quale stavamo parlando prima. Nel 1970 il teschio venne sottoposto a degli esami. La tecnica usata risultava compatibile con una origine precolombiana del manufatto. Quindi, materiale cristallo, origine precolombiana. In ogni caso, non si riuscì a datarlo. Quindi, cara Mirella, il mistero rimane ancora aperto. E con questo mistero ancora aperto io ti saluto perché debbo passare ad una nuova richiesta, quella di Serena 82, che ci porta direttamente nell'antico Egitto. Eccoci ritornati e ci spostiamo nell'antico Egitto grazie al messaggio pervenuto da Serena 82. Ciao Serena! Sono un'appassionata della storia dell'antico Egitto. E' vero che esiste una connessione tra il Nilo, i templi sacri e la disposizione dei chakra? Beh, Serena, grazie per questa interessante e importante osservazione. In effetti una correlazione sembra esistere. Ma proviamo a scoprirla insieme. Le acque del fiume Nilo rappresentano la raffigurazione celeste della Via Lattea, il Tempio di Dio sulla Terra, e non dimentichiamo che l'Egitto stesso fu modellato sulla base di un dio. Ci troviamo quindi di fronte a una rappresentazione geografica dell'archetipo umano dal quale il Nilo è la spina dorsale, mentre la testa si trova a nord e il corpo a sud. Lungo questa spina dorsale, quindi lungo il corso del fiume Nilo, si trovano sette templi mistici che rappresentano i chakra come tu hai giustamente intuito. Secondo la tradizione, gli iniziati diedero l'avvio ai loro insegnamenti religiosi nell'isola di Elefantina per poi spostarsi verso nord per ricevere il prossimo livello di iniziazione e di insegnamento. Partendo da questo dato, possiamo individuare la posizione dei chakra lungo il fiume Nilo e il loro allineamento. Chakra della radice Elefantina Chakra sacrale Tebe Chakra del plesso solare Abidos Chakra del cuore Ermopolis Chakra della gola Memphis Chakra della fronte Eliopolis Chakra della corona Behedet L'odierna Edfu Questa disposizione rappresenta quello che un tempo era un percorso iniziatico, una tradizione che si ritrova in molti altri scenari anche più recenti, ad esempio il cammino di Santiago da Compostela e con questo io ti saluto, passiamo velocemente ad un nuovo argomento, argomento che riguarda ancora una volta l'ufologia. E ritorniamo nel mondo dell'ufologia grazie al messaggio che ci arriva Francesco il quale ci scrive da Livorno Buongiorno e complimenti per il canale, grazie Seguo sempre tutti i video, specialmente quelli che trattano di ufologia E a questo proposito volevo chiedervi se esistono testimonianze su questo argomento in Africa Ovviamente esistono molte testimonianze in merito all'ipotesi extraterrestre che riguardano l'Africa Testimonianze delle quali però si parla poco, preferendo riferirsi a quelle magari molto più conosciute, molto più trattate dalle varie riviste, dai vari articoli Cercherò di farti una breve panoramica dei casi più interessanti Nel settembre del 1994, nello Zimbabwe, circa 62 bambini raccontarono di uno strano incontro avvenuto con un ancora più strano individuo nel cortile della loro scuola Interrogati singolarmente, ognuno dei bambini raccontò la stessa storia E quando venne chiesto ad ognuno di loro di disegnare l'uomo visto nel cortile Tutti riportarono le fattezze di una figura riconducibile ad un grigio Le indagini più interessanti che riguardano i paesi africani sono state condotte da Bud Hopkins e Whitley Strieber Soprattutto in merito allo scenario riguardante le abduction Un caso abbastanza singolare, ad esempio, è quello di Janet, vissuta per molto tempo nello Zimbabwe e in seguito trasferitasi a Londra I primi disturbi si fecero notare durante le tempeste tropicali Ogni qualvolta che c'era un fulmine, la donna provava sensazioni traumatiche Trasferitasi a Londra per lavoro, Janet iniziò a muoversi come in uno stato di trance Questo accadeva in particolare quando stava per accadere qualcosa che avrebbe potuto avere conseguenze sulla sua persona In questo modo evitò che la caduta di un tubo al neon la ferisse per ben due volte E lo stesso accadde in molte altre occasioni La seconda testimone è invece una donna di Bulawayo, la città più popolata dello Zimbabwe dopo la capitale Jenny era tormentata da oltre vent'anni da un sogno ricorrente Un uomo vestito di bianco che voleva portarla via La donna, sottoposta a regressione ipnotica, ricordò di essere stata trasportata in una costruzione di forma ottagonale con larghe finestre All'interno della costruzione vide uomini vestiti di blu intenti in quello che sembrava un lavoro di monitoraggio della zona Uno degli esseri, una donna, le si avvicinò spiegandole che stavano sorvegliando il nostro pianeta Si trattava di sogni lucidi, si è trattato di fantasie per tutti questi testimoni e per altri ancora che non ho ovviamente elencato Ma solo per motivi di tempo Con questo quesito io saluto Francesco ma saluto anche tutti voi perché siamo giunti alla conclusione di questo incontro Con oltre frontiera Io vi invito ancora una volta ad iscrivervi al canale Vi invito a mandare i vostri messaggi, le vostre mail Frontiereproibitechiocciolagmail.com L'appuntamento con Frontiereproibite è per la settimana prossima Un caro saluto a tutti voi, grazie Grazie